Inflazione e rallentamento della ripresa economica sono gli spettri del caro energia, dell'aumento dei costi delle materie prime e della guerra in atto che mette a rischio la ripartenza degli artigiani e delle micro e piccole imprese. Il conflitto Russia-Ucraina, secondo segretario della CNA Moreno Bordoni, rischia di compromettere in pochi giorni anni e anni di lavoro sul fronte degli interscambi e delle esportazioni dell'attività manifatturiera dell'azienda e del nostro territorio da e verso i due paesi. Bordoni, si rischia un effetto domino sulle imprese? Si rischia davvero un effetto domino perché quei mercati storicamente per la provincia di Pesur Urbino ma per le marche in generale sono mercati strutturati e davvero importanti. Consideriamo che nel 2020 la regione Marche solo come export diretto verso la Russia e verso l'Ucraina ha fatto oltre 400 milioni d'euro e questo non è un dato che va visto soltanto per questa cifra ma per tutto l'indotto evoluto che lavora nella nostra provincia, nella nostra regione che quindi fa altrettanto fatturato che rimane come ricchezza nel nostro territorio. Quindi si rischia davvero un effetto domino, poi noi dalla parte italiana abbiamo anche l'altra parte della medaglia, ulteriore beffa perché non avendo energie nostre dobbiamo comperarle da quei paesi. Considerate che 4-5 giorni fa il prezzo del petrolio che era i massimi storici negli ultimi 10 anni è superato i 100 dollari al barile, è arrivato a 105 e poi si è assestato su 102. Il gas naturale alla borsa di Amsterdam più 51%, oltre 100 euro al megawattora. Tutti i costi che poi assolutamente verranno poi riversati nelle bollette delle nostre famiglie, delle nostre imprese che già erano difficoltà fino adesso. Quali sono i settori che ne risentono di più? I settori manifatturieri, quelli che in questi mesi avevano invece trainato quella ripresa importante che tutti auspicavamo nel dopo pandemia, anche se non possiamo parlare di dopo pandemia, ma ormai la pandemia non è più un argomento, è andato in mezzo alle pagine dei giornali, non certo più in copertina. E rispetto a questo, il settore del legno arredamento, la meccanica e anche la nautica che è un settore che nel nostro territorio negli ultimi anni è davvero ripreso a volare. In uno scenario internazionale così incerto, che cosa si deve fare e quali sono le prospettive? Innanzitutto bisogna scongiurare che l'evento bellico continui per molto tempo. Bisogna cercare di… la parte diplomatica deve avere la meglio, quindi smettere di fare la guerra perché è importante. Ovviamente stigmatizziamo la guerra in tutti i luoghi, in ogni sua situazione, però le diplomazie devono lavorare bene. In questo momento a mio avviso hanno sottovalutato la situazione, hanno fatto degli errori importanti. Poi sono convinto che se l'evento bellico terminerà velocemente, i nostri imprenditori, quando saranno messi nelle condizioni di fare bene il proprio lavoro, così come hanno dimostrato durante la lunga crisi degli ultimi dieci anni, durante la pandemia, poi quando hanno ripreso, hanno ripreso subito a volare. Ci sono le condizioni per una ripresa stabile nei prossimi cinque anni, anche per l'occupazione, se riusciamo a trovare una normalità, che è la cosa fondamentale per l'imprenditore. L'imprenditore ha bisogno di tutto, ma non ha bisogno dell'incertezza. Ovviamente dopo una lunga crisi, dopo la pandemia e con l'evento bellico, proprio l'incertezza è l'elemento che li fa navigare a vista. Noi abbiamo bisogno di tutto, tranne che di questo.